Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Francesco Totti ha avuto modo di fare due chiacchiere in diretta con Simona Ventura e ha risposto ad alcune domande stupendo i suoi ammiratori L'avventura ha condotto ieri sera, 7 settembre, la partita del cuore dove era presente anche il capitano La conduttrice ha preso la palla al balzo per porre alcune domande al calciatore Francesco Totti sta sicuramente vivendo un momento particolare della sua vita Dopo una vita insieme, la coppia ha mostrato i primi segni di cedimento Il gossip è andato in tilt e da quando hanno annunciato la loro separazione, hanno gli occhi puntati addosso La notizia della nuova frequentazione di Francesco ha sollevato un polverone che però la coppia sta cercando di contenere per il bane dei figli Il pupone ha risposto inaspettatamente a Simona Ventura durante una breve intervista e ha stupito i fan Di cosa si tratta? Francesco Totti ha ripreso la sua quotidianità, dopo le prime vacanze, dopo molti anni, senza Hilary Dopo la separazione e la presunta relazione con Noemi Bocchi, il capitano ha avuto gli occhi addosso del gossip che pazientemente attende lo scoop Una situazione difficile per entrambi e sembrava che, per evitare il tribunale, fossero tornati sotto lo stesso tetto Dopo questa notizia però la Blasi si è taggata presso un hotel forse per controbattere alla cosa La conduttrice ha passato le vacanze in svariate località e lontana dai riflettori Prediligendo gli affetti più cari, Francesco Totti è rimasto invece a Sabaudia e ha comunque continuato a vedere la sua nuova fiamma Ieri sera, il calciatore ha preso parte alla partita del cuore dove ha incontrato Simona Ventura Sapete cosa ha chiesto la showgirl al capitano? Ecco cosa ha chiesto Simona Ventura Simona Ventura ha intervistato Totti durante l'evento benefico che ha condotto ieri La grande Simona era raggiante e piena di energia Ha avuto la possibilità di vedere Totti e non ha esitato a fare una domanda in attesa La Ventura ha chiesto al calciatore dove avesse passato le vacanze, dato che non si era visto in giro Lui ha risposto, sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre a dire la verità Nessun riferimento a Ilari o alla separazione ma una risposta adeguata alla situazione Simona aveva già espresso il suo parere riguardo alla separazione affermando di capire la difficoltà del momento e il dolore della coppia Momenti difficili e dolorosi che diventano anche peggio sotto i riflettori Auguriamo sia a Ilari Blasi che a Francesco Totti di ritrovate la serenità che meritano Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video